Davvero, quando mi è stato detto che si apriva un hub così importante, così strategico all'università, ho pensato che fosse proprio il segnale giusto e che meritasse la presenza del governo del nostro paese e del ministro della salute. Credo che simbolicamente sia molto forte l'idea di portare la campagna di vaccinazione dentro un'università, perché l'università è l'idea del futuro e quindi questa dimensione di futuro si incrocia con la campagna di vaccinazione. Siamo in una fase cruciale perché abbiamo superato le 15 milioni di dosi somministrate, andiamo a una velocità di circa un milione di dosi ogni tre giorni e accelereremo ancora nei prossimi giorni. Io penso che nelle prossime settimane le due parole guida devono essere fiducia e prudenza, dobbiamo declinarle assieme, fiducia perché abbiamo finalmente gli strumenti per uscire da questa stagione, ma ancora prudenza perché il Covid è presente, c'è una circolazione significativa, tante persone sono ancora in terapie intensive in area medica. Io penso che abbiamo bisogno di un grande patto paese in cui tutti insieme si rimette al centro la questione salute e si costruisce la prima mattonella su cui far ripartire davvero l'Italia.